Un sistema che si attendeva da tempo e che ora è realtà. Per proteggere la Basilica di San Marco dall'acqua alta saranno utilizzate delle specie di palloncini gonfiabili sotterranei inseriti nel sistema di tubature che collegano la parte del narcete, l'atrio tra la facciata esterna e le navate, con il bacino e i cosiddetti gattoli creati a suo tempo in caso di allagamento da pioggia. Sono gli attuatori di valvole che separano dentro i condotti dell'acqua piovana l'acqua che viene su dalla laguna e la impediscono di entrare dentro la piazza e quindi poi dentro il nartece. Questo costituisce un isolamento idraulico che viene azionato quando la marea supera un certo livello. Il problema era emerso nella sua gravità lo scorso 29 ottobre quando a Venezia si è registrata un'acqua alta da record che ha danneggiato gravemente pavimento e colonne per effetto della salsedine. Attraverso questo sistema dunque in questi giorni in fase di collaudo finale l'alta marea sotto gli 88 centimetri non dovrebbe più essere un problema per la Basilica di San Marco. Quando queste opere saranno ultimate questo fenomeno che portava comunque numerosissime ore all'anno di allagamento del pavimento del nartece non ci sarà più e quindi noi avremo risparmiato circa il 70%. Non siamo contenti, vorremmo arrivare al 100% però intanto abbiamo tolto il 70% delle ore in cui il nartece viene allagato dall'acqua salata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.